Bello. Famoso. Introverso. Raramente Gabriel Garco, idolo indiscusso, si racconta in tv. Stavolta decide di farlo nel salotto di Pierluigi Diaco a Io e Teddy Notte. L'attore difende da sempre la propria privacy allontanandosi dal gossip. Il fatto di non poter vivere a pieno, a 360 gradi, la propria libertà. Se decidi di essere un personaggio pubblico devi stare attento a tutto e far sì che tutto venga misurato nel modo giusto, racconta Garco a Diaco, che gli chiede qualcosa di più intimo dicendo, non ho voluto farti domande personali e credo che il modo migliore per arrivare a quella normalità a cui ti riferisci sia proprio non parlarne. Francamente nel 2020 non se ne può più di dover chiedere ad un personaggio da che parte sta, una persona non è la sua identità sessuale, una persona ha innanzitutto la sua identità di essere umano. Garco fa dribbling e replica, parliamo di cibo così diventa più facile. Se a me piace la crostata con le pere e il salame piccante. E allora Diaco prende di nuovo la palla, ti piacciono le cose forti. Va avanti per un po' questo botta e risposta. Garco si giustifica così, era per fare un accostamento che non sta né in cielo né in terra. E il salame comunque si metterebbe a fette. Ma Diaco mette fine alla faccenda con una frase secca, prima o poi andiamo a mangiare insieme e capiamo se i gusti sono gli stessi. Al ristorante ovviamente. L'intervista tra foto e ricordi va avanti, Diaco scava. Garco racconta anche di aver ricevuto Avanz quando aveva 16 anni da un uomo sposato, all'epoca ne aveva 40. La normalità, una parola che odio, è tanto soggettiva, tuona alla fine di questo capitolo inedito della sua vita.